Fratelli d'Italia non ha gradito l'atteggiamento di qualche alleato al quale d'accunto fa riferimento, che prima avrebbe negato l'ingresso in lista dei due nomi proposti da Fratelli d'Italia, salvo poi correre ai ripari. Toti si è fatto carico di una proposta che avrebbe condannato Quilici all'isolamento politico e all'azzeramento della sua lista. I membri avrebbero interpretato la proposta come un abbraccio mortale in extremis, per ottenere la restituzione del simbolo di Fratelli d'Italia ad Alassio, non risolvendo però la crisi aceriale. Pizzimbone ha deciso di non commentare questa scelta che potrebbe danneggiare lo stesso partito. L'unico commento è arrivato da Alassio, tramite Canepa che raccoglie l'assist di Toti e di Chiara. Ringrazio il coordinatore regionale Massimiliano Iacobucci e l'assessore Gianni Berrino per essere prontamente intervenuti. Mai avuto dubbi sulla realtà di Fratelli d'Italia. Il centro-destra è unito e compatto, pronto per governare Alassio per altri cinque anni.